Ad aprile, non dormire, vivi le emozioni del calcio di Serie A che va verso la volata Scudetto e di quello di Serie B. E non dimenticare il grande finale dei campionati di Inghilterra e Germania. Il tennis ATP non ti dà pausa, rilanciando le sfide sulla terra rossa. La grande box ti terrà sveglio anche di notte. Otto match mondiali, il Clou e Chavez Parisi. Puoi sognare ad occhi aperti con la straordinaria sfida dell'America's Cup e rilassarti un po' al ritmo del golf con la Gasta Masters e l'Open di Catalogna. Certo, non puoi prendere sonno con i campioni dell'equitazione e con quelli del basket impegnati nella corsa playoffs e nella finale del campionato NCAA. E prima del meritato riposo potrai stare sotto rete per il campionato italiano e la Coppa Italia Femminile, oltre a provare ancora una volta i brividi di due nuove tappe del Moto Mondiale 95. Non dormire, scegli lo sport, scegli Tele Pio 2. Scegli Tele Pio 2.